Salve a tutti e benvenuti in Amarica dei Cartomenti Europei. Leggiamo la carta di oggi, 12 dicembre. Vediamo che cosa ci dice la carta del giorno. Giocosità. Per riconquistare l'amore, lascia risprendere lo spirito giovane e divertente che è in te. Gli angeli del cuore sono cherubini che incarnano tutte le nostre romanticherie e sono dotati di un gioioso e fanciullesco senso del gioco. Si dilettano con le meraviglie dell'amore e ti chiedono di fare lo stesso. Gli angeli vogliono aiutarti ad innamorarti di nuovo della vita e ti guidano a godere di te stesso. Tutto questo deriva da uno spirito di gioia e di avventura. Gli angeli ti chiedono, quando è stata l'ultima volta che ti sei divertito? Se non te lo ricordi, allora il tempo è scaduto da un pezzo ed è ora di inserire in agenda qualche momento di gioco e dispensieratezza. Gli angeli dicono che il divertimento è una necessità, non un lusso. Le attività che svolgi possono essere gratuite, come esplorare la natura, fare un'audizione per uno spettacolo teatrale locale, iscriversi ad un centro sportivo, provare qualcosa di nuovo. Giocare è un ottimo modo di investire il tempo, perché rigenera le energie e risolleva l'umore. Il gioco è fondamentale anche nelle relazioni, per mantenere vivo lo spirito dei primi appuntamenti. Programma veri e propri primi appuntamenti con il tuo partner e pianificate a turno attività divertenti da fare insieme, come il mini golf, il karaoke, passeggiare in un giardino fiorito o far volare gli aquiloni. Allora, vediamo chi è oggi il vincitore del premio del giorno. Innanzitutto vediamo il premio. Fata della fortuna grande. Benissimo, oggi i cartomanti europei dà in omaggio con il calendario dell'avvento la fata della fortuna. Vediamo chi sarà il vincitore. Maria F. Congratulazioni Maria, verrai contattata da Cartomanti Europei per ricevere il nostro premio. Un bacione a tutti da Marika. Grazie.